italia come si sa terra dei cachi sugli intercity fino in genere al 2009 2010 sui treni intercity era presente il servizio ristorante così come in tutta europa se non fosse che con la sempre maggiore entrata in vigore delle frecce questi sono stati totalmente soppressi da trenitalia poiché questo era in perdita ora è un servizio presente in tutta europa perché anche qui dobbiamo essere sempre il finalino di coda al di là di tutto trenitalia cerchi di reperire dei fondi avendo peraltro concluso in rialzo il bilancio 2016 per ripristinare il servizio quantomeno sulle tratte principali